So, sale sul motoscafo! E' quella grotta! Stai a lontano dagli spazi aperti! Vieni dall'elicottero, so! Dobbiamo liberarcene, distruggili! Sopera quel little bird prima che inizi a sparare! SINISTRA! Abbiamo un elicottero alle nostre spalle! Manovre e lusine! Rapide davanti a noi! Ci sarà movimento! Chiediti forte! Alla prossima! Sì. Rai dietro, rai dietro! E per non deve sfuggirci! E per non deve sfuggirci! E per non deve sfuggirci! 5 anni fa ho perso 30.000 uomini in un istante... E... E il mondo è rimasto a guardare! Domani... I volontari non mancheranno... E neppure i patrioti! So che puoi capire... No! 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 Per ora a reggione! Torso! Alzi! Non ti avevo detto che un viaggio di sola andata! Pare lo sia ancora! Perranno a cercare! Nicolai, dobbiamo portare Soppa via da qui! Da! Conosco un posto Grazie Grazie